Il litorale di Fano sempre più protetto grazie alle scogliere. Il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Cristian Fanesi, ha annunciato l'arrivo di una chiatta a Puntesasso di Fano e l'avvio dei lavori attesi da anni. In questi anni l'esperienza ci dice che sono lavori tanto attesi sia dagli operatori balneari, che ovviamente sono sempre molto attenti a questi temi, ma anche dai cittadini, perché in molti casi le scogliere vengono poste a difesa delle spiagge libere. Dunque siamo contenti di poter dire che questa mattina sono iniziati i lavori per rafforzare le scogliere già esistenti di Puntesasso e dovrebbero durare una decina di giorni, ovviamente tempo meteo marino permettendo. Lavori che interessano solo il rafforzamento delle scogliere che già esistono, che probabilmente hanno perso nel tempo la loro funzionalità piena e quindi le rafforziamo soprattutto per quanto riguarda le parti terminali, le famose teste di ciascun setto, che in totale sono nove. Siamo partiti da sud, questa mattina partiremo da sud e poi verremo a nord, progressivamente con la ditta che col motopontone posizionerà questi scogli, che alla fine saranno circa 3.000 tonnellate. L'importo complessivo dei lavori è di quasi 300.000 euro e andrà a beneficio delle spiagge, delle infrastrutture e come auspica l'assessore del turismo. Questo però non è l'unico intervento in atto. Stanno continuando e continueranno fino al 30 di luglio i lavori per il rifacimento delle scogliere ex novo, quindi le nuove scogliere di Metauriglia, a difesa della prima parte, dal fiume Metauro verso Torrette. Lavori che abbiamo tenuto di poter fare fino al 30 luglio. Siamo molto contenti perché la ditta Slimar, che è stata incaricata da noi sia per quanto riguarda le scogliere di Metauriglia, sia per questo intervento a Ponte Sasso, si sta comportando bene e continuano ad arrivare scogli dalla Croazia, la prossima nave attesa per giovedì e quindi sicuramente è un lavoro che sta procedendo molto bene anche col favore del meteo. Per Sassonia invece la situazione è diversa perché abbiamo già fatto la gara, abbiamo già nominato la ditta vincitrice, domani avremo un incontro molto importante nella quale capiremo insieme a loro quando potranno iniziare i lavori anche a Sassonia. Siamo consapevoli del fatto che in piena stagione estiva fare i lavori è molto diciamo scomodo, difficile, perché ovviamente il mare è fruito, però abbiamo preso l'impegno di iniziare il prima possibile, quindi chiederemo alla ditta di poter organizzarsi per iniziare appena potrà.